Salve a tutti, sono Martin Goichberg-Cremaschi, uno studente dell'Università degli Studi di Ferrara e ho appena concluso il mio tirocino presso il reparto marketing della Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria. Questa è stata un'esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo, sia a livello personale, umano, sia a livello professionale. Lavorare qua è stato un piacere così come anche un privilegio e ringrazio tutti i miei colleghi e capi reparti ma specialmente i miei colleghi di marketing, Simone Costa, Giuseppe De Vita, Gabriele Pisceda, Miriam Lazzati e anche Alessandro Iba. Grazie mille, grazie per tutto e insieme per crescere!